Eccoci anche oggi con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in studio. Ci sono io, Martina Rolone, vi farò compagnia con la lettura delle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Siamo a venerdì 23 luglio. La notizia principale di oggi riguarda la conferenza stampa di ieri del Presidente del Consiglio Mario Draghi e le nuove regole per quanto riguarda la pandemia, soprattutto per quanto riguarda il Green Pass. Andiamo al Gazzettino e trattiamo proprio questa tematica. La prima pagina dell'edizione del Nord-Est del Gazzettino, infatti, tratta proprio del Green Pass. Ecco dove serve. Da 6 agosto, nelle attività al chiuso, trasporti per ore esclusi, Draghi, l'invito a non vaccinarsi è un invito a morire. Andiamo proprio all'interno a leggere. Prima leggiamo quelle che saranno le nuove regole dal 6 di agosto. Dal 6 agosto il pass per ristoranti e bar, gli stadi fino al 50%. Servirà una dose per accedere al bar e ai ristoranti. Restano chiuse le discoteche, test a prezzo ridotto per chi non ha potuto vaccinarsi. Alla fine abbiamo finalmente imboccato la via italiana per il Green Pass, si legge nell'articolo. La certificazione che attesta di aver ricevuto almeno una dose di vaccino, di essersi sottoposti al tampone nelle ultime 48 ore o di essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi, dal 6 agosto diventerà infatti obbligatoria per accedere a qualsiasi attività. Che si tratti di servizi di ristorazione al chiuso, musei, cinema, teatri, palestre, piscine al chiuso, sagre, fiere, congressi, convegni, centri culturali, sale bingo, concorsi pubblici e anche manifestazioni sportive. La socialità italiana sarà quindi interamente legata alla necessità di mostrare un QR code, esclusi per il momento i trasporti. Come ha spiegato il Premier Draghi nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato l'intesa sul decreto, il nodo di aerei, navi, treni e autobus verrà sciolto solo nelle prossime settimane. Così come le altre partite in sospeso che sono la scuola e il lavoro. Niente da fare invece per le discoteche che resteranno chiuse ma riceveranno nuovi ristori. All'interno della pagina sono riassunte in breve quelle che saranno le regole, bar e ristoranti, pass al chiuso e solo seduti. Solo il caffè al bancone, il servizio d'asporto e le consumazioni all'aperto sono scampate al green pass obbligatorio. In altre parole, per pranzare nella sala interna di un ristorante bisognerà essere vaccinati almeno con la prima dose da 14 giorni, aver fatto un tampone molecolare o un test antigenico nelle 48 ore precedenti, oppure essere guariti dal covid negli ultimi sei mesi. Cosa si rischia? Per i clienti una multa da 400 a 1000 euro e per i gestori, oltre alla sanzione, in caso di recidiva, la chiusura del locale da 1 a 10 giorni. Cinema e teatri consentiti più spettatori. I green pass e i relativi controlli da 6 agosto saranno obbligatori anche per andare al cinema o al teatro, sia in zona bianca che in zona gialla, tanto all'aperto quanto al chiuso. Gli spettacoli in pratica si svolgono esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati a condizione che sia assicurato rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Inoltre, in bianco, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso. Torniamo un attimo alle regole e poi continuiamo anche con quelli che sono i nuovi parametri anche per il passaggio di colore, per il passaggio nelle diverse zone delle regioni. Per le piscine all'aperto il green pass non è obbligatorio, un po' come accade per i ristoranti, anche per palestre e piscine l'obbligatorietà del pass valida solo per le attività svolte al chiuso. Negli stadi, sia al pubblico al 30% o al 50% e il pass diventa obbligatorio anche per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi, in pratica per intare allo stadio serve il QR code. Inoltre, il testo anche definito come in zona bianca, la capienza consentita per le strutture che ospitano questi eventi non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso. Per quanto riguarda i trasporti, come dicevamo, tutto è rimandato a un nuovo Consiglio dei Ministri, è stato aperto il nodo dei trasporti, a noi è parso che il decreto di oggi fosse già molto complicato per abbracciare tutti i problemi, scuola, trasporti e lavoro, ha detto Draghi, sono rimasti fuori dal decreto e saranno affrontati forse già la settimana prossima. E per quanto riguarda il cambio di colore delle zone in nuovi parametri, è stato sottolineato che non verrà più considerato l'incidenza settimanale dei contagi, ma sono stati aggiunti anche altri parametri. Nel testo adottato ieri sono stati definiti nuovi parametri per il passaggio delle regioni da una fascia di rischio all'altra. Per passare in giallo ora devono coesistere tre condizioni, non solo l'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti, che era l'unico fattore necessario fino a questo momento, ma anche il tasso di occupazione dei posti letto. In area medica, in area diciamo non critica, deve essere superiore al 15% e i posti in terapia intensiva Covid devono essere più del 10% occupati. Per l'arancione le soglie sono invece rispettivamente 30% e 20% e per il rosso 40,30%. Quindi viene data importanza al tasso di ospedalizzazione e non solo al numero dei contagi. Torniamo indietro in una pagina e ci ha reso conto di quanto detto da Draghi in conferenza stampa, l'appello a non vaccinarsi è come un invito a morire, ha detto Draghi e leggiamo all'interno alcune di quelle che sono state le sue dichiarazioni. Draghi ha detto che l'economia va bene, si sta riprendendo e l'Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri paesi europei. La variante delta è anche più minacciosa di altre varianti. Mario Draghi ha fatto il punto della situazione e ha detto che l'introduzione del Green Pass è l'unico modo per salvare l'economia, ha sottolineato, per non dover andare incontro a un ulteriore lockdown, ad altre chiusure che andrebbero a creare tantissimi danni anche al settore economico. Poi leggiamo alcune delle altre dichiarazioni che sono state fatte da Draghi, il cui è ribattuto anche a Matteo Salvini, senza citarlo espressamente, però ha detto che l'appello a non vaccinarsi è appello a morire sostanzialmente, non ti vaccini, ti amali e muori, non ti vaccini e contagi, ha detto Draghi durante la conferenza stampa. Come si diceva la prossima settimana verrà affrontato il nodo dei trasporti e della scuola e del Green Pass appunto per quanto riguarda trasporti e scuola. C'è poi un articolo a pagina 4 del Gazzettino, l'edizione del Nord-Est, che parla appunto del virus nel Nord-Est e dice che in terapia intensiva finiscono solo i non vaccinati e il vaccino si conferma quindi l'arma anti-covid. I dati del Veneto su 16 malati, soltanto uno ha avuto la prima dose, 15 nemmeno quella, quindi 15 su 16 persone ricoverate sono quelle che non si sono vaccinate, più di metà sono finiti subito attaccati al respiratore, fra cui un ragazzo di 21 anni, quindi in ospedale e anche intubati in terapia intensiva. Domanda, chi finisce oggi in terapia intensiva con il covid? Risposta, chi non è completamente vaccinato contro il coronavirus. Al di là delle opinioni chiacchiere a dirlo sono i numeri. Su 16 malati attualmente ricoverati negli ospedali del Veneto, 15 non avevano ricevuto nemmeno una dose di vaccino e uno aveva ottenuto solo la prima. La fotografia è stata scattata mercoledì e riguarda gli ingressi registrati a luglio nei reparti che garantiscono la ventilazione meccanica ai pazienti colpiti da grave insufficienza respiratoria. Trattandosi di un'istantanea, vengono inquadrati i numeri di quel momento, che però possono variare nel corso della giornata e i fatti da allora sono già aumentati. La situazione è questa. Inoltre alla metà delle circostanze l'ingresso in ospedale è avvenuto direttamente in terapia intensiva, quindi per condizioni gravi, mentre i restanti degenti sono transitati per 2-5 giorni in area non critica prima di vedere aggravarsi le loro condizioni. L'età media è di 58 anni e mezzo, ma uscilla tra i 21 del ragazzo di Monza che era tornato da Barcellona con sintomi molto importanti e 78 di un malato che è deceduto a sesto giorno di degenza, entrambi ricoverati in provincia di Verona, si legge appunto nell'articolo. Ciascuno ha la sua storia clinica, ma tutti i profili dei ricoverati sono accomunati da un dato, il fatto di non aver completato il ciclo vaccinale. Addirittura un solo malato risulta aver aderito alla campagna, un 54enne che è rimasto attaccato al tubo dell'ossigeno, scusate, dal 6 luglio al 12 luglio all'ospedale di Borgo Trento. L'uomo aveva comunque avuto solo una dose di vaccino, quindi non aveva completato il ciclo vaccinale. Tutti gli altri ricoverati invece non erano stati minimamente immunizzati. La mancata protezione li ha evidentemente esposti al rischio di subire le pesanti conseguenze dell'infezione. Basti pensare che sono finiti direttamente in terapia intensiva a Verona un 76enne, un 54enne, un 21enne, un 78enne, a Villafranca un 42enne, a Treviso un 39enne, a Padova un 64enne, a Sandonà un 56enne. Quindi si può vedere come la media di età di chi si amala gravemente sia andata abbassandosi. Leggiamo poi, andiamo in questo caso a Belluno e leggiamo sempre alcune notizie, rimaniamo nell'ambito Covid, poi possiamo correre delle Alpi e cambiamo argomento. Vacanze all'estero, riparte il contagio. Soggiorni all'estero e il corso in Francia dei maestri di sci hanno provocato il maggior numero dei focolai più recenti. Il 10 luglio c'erano 0 positivi, ieri 21. Belluno segue la tendenza nazionale e tornano anche i ricoveri. In questo caso siamo, come dicevamo, nella situazione di Belluno. I focolai si allargano, picco di positivi fra i vacanzieri. Erano 21 i nuovi casi registrati ieri, dopo giorni a 0 o poche unità. Quindi anche in provincia di Belluno sta schizzando in altro il numero dei contagiati. I contagi sono ripartiti. A togliere ogni dubbio, su un'affermazione che nessuno avrebbe voluto leggere di nuovo, sono i dati relativi all'ipedemiologia in provincia. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss ieri ha comunicato che sono stati scoperti 21 nuovi positivi, quasi quadruplicati rispetto a 10 giorni prima. L'incidenza settimanale ha fatto un notevole balzo in avanti. Il 12 luglio era 14, il 19 è salita a 18,5 e ieri è schizzata a 36. Rimangono attivi i due focolai della provincia, quello legato al gruppo di ventenni residenti nel Feltrino e quello dei maestri di sci. Gli altri positivi sono persone rientrate positive dalle ferie. Che sia l'effetto degli europei di calcio o della gente che ritorna dal mare poco cambia. La tendenza dei nuovi positivi è in forte crescita, si legge appunto nell'articolo. Si è tornato indietro anche praticamente di due mesi, ma cosa ha influito sulla ripresa dei contagi? Si legge che per la maggior parte sono rientri dall'estero o comunque dalle ferie al mare. Si parla poi dei focolai, nel frattempo continuano le vaccinazioni, l'articolo è di Davide Piol. Si parla anche delle sedute vaccinali organizzate per i prossimi giorni, per esempio il 29 luglio con offerta di tamponi al pallagaccio di Cortina d'Ampezzo, anche i pediatri di libera scelta dell'Usdolomiti hanno avviato l'offerta vaccinale per i loro pazienti di età compresa fra i 12 e i 16 anni. C'è un'altra notizia che leggiamo prima di passare al Corriere delle Alpi, in questo caso è sempre di Davide Piol e si parla del personale ospedaliero all'Ostremo, straordinari non pagati. Fumata nera dopo l'incontro ieri con l'Ursi, sindacati dicono di aver avuto poche risposte concrete. Straordinari non pagati, incognita delle ferie e turni che potrebbero allungarsi qualora l'Usdolomiti decidesse di sospendere, di procedere con le sospensioni dei Novax. Gli eroi della pandemia, coloro che hanno dato anima e corpo per tamponare gli effetti del virus negli ospedali, si dicono esausti. L'orario straordinario, spiega Mario De Boni, segretario della CISL Funzione Pubblica, viene di solito liquidato ogni sei mesi ma è stato ritardato per il Covid. Abbiamo indietro tutto il 2020. La direzione sanitaria nell'incontro di ieri pomeriggio con i sindacati ha promesso di pagarlo entro settembre, ma non è l'unico modo da sciogliere. All'ordine del giorno c'erano le questioni strettamente economiche e poi sono state sollevate quelle relative alla sospensione degli operatori sanitari non vaccinati, che metterà in crisi un sistema già zoppato dalla mancanza di personale. Alcuni cambiamenti all'interno degli ospedali sono già avvenuti. Mercoledì i ricoveri di neurologia e pneumologia a Feltre sono stati trasferiti al sesto piano del padiglione dalla Palma mantenendo i rispettivi posti letto, mentre a Belluno l'attività chirurgica programmata di urologia che richiede adegenza è stata sospesa e l'urgenza è trasferita all'ospedale di Feltre, previa consulenza urologica all'ospedale San Martino. Quindi ospedali in difficoltà. Come dicevamo ci spostiamo al Corriere delle Alpi, anche qui la prima pagina è dedicata alla tematica Green Pass, si legge, arriva la stretta per l'obbligatorietà di esibire il Green Pass certificazione. Anche qui c'è un lungo approfondimento che va da pagina 2 a pagina 5 del Corriere delle Alpi. Sono esposte le regole delle state, le abbiamo lette prima sul gazzettino, quindi andiamo oltre e cambiamo argomento. Un altro articolo, siamo nella prima pagina dell'edizione di Belluno, siamo a pagina 5, riguarda il lavoro. L'industria assume centinaia di addetti, operai contesi a colpi di aumenti. La vitec continua a crescere, l'affare non trova trafilatori, la sesta ha dovuto portare la campagna acquisti in Sicilia. Il calcio a mercato in fabbrica poco ci manca. Sono sempre più frequenti i casi di industria e manifatturiere, ma capita anche nell'artigianato, che a caccia di figure professionali introvabili sono disposte ad acquisirle, magari da ditte concorrenti, garantendo buste paga più consistenti. Fino a qualche mese fa non c'era questo dinamismo nel mercato del lavoro, oggi sì, dice Stefano Bona, segretario provinciale della FIOM. Non solo abbiamo lavoratori che lasciano la ditta dove lavorano in somministrazione per quella che assicura contratti con scadenze più lunghe, ma anche chi lascia un impiego a tempo indeterminato per raddoppiare lo stipendio con contratti brevi. E c'è questo articolo appunto che approfondisce la questione ed è di Francesco Dalmas. Cambiamo ancora argomento e in questo caso andiamo a parlare di Elisoccorso. L'Ulss lo rafforza, l'obiettivo è arrivare ad avere 30 piazzole. Entro ferragosto i sindaci dovranno segnalare le aree disponibili nei loro comuni. Il nuovo direttore dei servizi sociali si presenta e annuncia un tour dei paesi. Questo articolo sulla sanità è a cura di Paola Dallanese. Servono almeno 25-30 piazzoni in provincia a copertura dell'intero territorio per agevolare il servizio di Elisoccorso anche in vista dell'avvio del volo notturno. A chiedere aiuto a tutti gli amministratori locali, ieri pomeriggio, è stata la direttrice generale dell'Ulss Dolomiti, Mare Grazia Carraro, che è intervenuta alla riunione della conferenza dei sindaci. La direttrice ha ribadito come il servizio di Elisoccorso sia stato appaltato alla società Babcock che garantirà il servizio notturno già dalla fine di agosto, partendo però dalla sede dell'Ulss 2 della marca trevigiana, come dicevamo. Questo in via temporanea finché non sarà completata la base EMS di Pieve di Cadore finché non saranno arrivate tutte le autorizzazioni necessarie. Attualmente sono operative una decina di aree di atterraggio per l'elisoccorso in varie parti della provincia. A Belluno e Feltre sono individuate all'interno dell'area ospedaliera. A Pieve di Cadore, appunto in realizzazione quella nuova, a Dagordo ce ne sarà una, a Falcade, Livina Longo. E a Livina Longo, come tiene a precisare il sindaco Leandro Grones, la piazzola è già abilitata anche al volo notturno. Uno dei problemi che è stato sollevato dai primi cittadini è stato quello relativo alla guardiania delle piazzole, che aprirà l'area e luci in caso di bisogno. I comuni non hanno tutto questo personale da poter dedicare anche a questo servizio. Su questo la direttrice generale si è detta automista. Le soluzioni poi si andranno a trovare, ha detto appunto, la Carraro. Ci spostiamo a Feltre, ma restiamo sempre a parlare della tematica sanità. Scusate nel frattempo ho combinato un disastro. Restiamo sempre a parlare appunto della tematica sanità e si parla dell'inaugurazione che si è tenuta ieri all'ospedale di Feltre, a Santa Maria del Prato. Un robot a fine anno in sala operatoria grazie ai sindaci e ai fondi di confine. Montine, primario di chirurgia, il reparto non si è mai fermato, inaugurata la centrale di sterilizzazione da un milione di euro. Appunto l'inaugurazione che si è tenuta ieri, l'articolo di Laura Milano. Dal completamento della piastra chirurgica del Santa Maria del Prato, l'esordio della chirurgia robotica. La regione sostiene il centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica e gastroenterologica, riferimento extra regionale per l'assistenza ai cittadini del premiero. E ieri era presente a Feltre con Sonia Brescacin, presidente della quinta commissione consigliare. Ma i sindaci ci credono ancora di più. È confermato infatti l'impegno espresso di contribuire all'acquisto di un sistema per la chirurgia robotica che potrebbe arrivare entro la fine di quest'anno. Un robot da mettere in buone mani, quello del primario di chirurgia generale Umberto Montin, che ha esperienza nel utilizzo. Ieri c'è stato anche il taglio del nastro dell'ultima grande opera di piastra chirurgica con la centrale di sterilizzazione, la cui produttività è quantificata in 25.000 unità di sterilizzazione ogni anno, equivalenti a circa 11.500 interventi di varia tipologia. Ma questa è stata anche l'occasione per dire che la chirurgia non si è fermata mai, nemmeno in piena ondata pandemica di prima e seconda fase per quanto riguarda gli interventi urgenti e programmati in caso di tumore, sempre considerati improcrastinabili dall'equip multidisciplinare. Quindi investimenti in sanità. Ci spostiamo a Santa Giustina. In questo caso c'è una brutta, una triste notizia. Parliamo di un uomo di 46 anni che dopo un malore in cantiere è purtroppo deceduto. Si parla di Valerio Giazzone, che era uno dei titolari dell'impresa edile di Sartena, colto da infarto mentre lavorava nella vicina Formeghan, scomparso appunto a soli 46 anni. Muore sul lavoro in cantiere, un infarto a 46 anni. Valerio Giazzone, uno dei titolari dell'omonima imprese edile di Santa Giustina, è deceduto ieri mattina mentre stava facendo il suo mestiere nella frazione di Formeghan. Era circa mezzogiorno quando si è improvvisamente accasciato e per lui non c'è stato più niente da fare. Prima sorpresi e poi preoccupati, i suoi colleghi hanno chiamato i soccorsi con una telefonata a 118 e sul posto è arrivato l'elicottero giallo del Suem. Una volta sbarcato, il medico non ha potuto che constatare la morte di Giazzone. I tentativi di rianimazione non sono serviti a nulla. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro di tutta Santa Giustina, dove il padre, la madre e i suoi fratelli sono molto conosciuti, soprattutto per l'impresedile Antonio Giazzone. Non era appassionato di calcio, a differenza del fratello Francesco, che ha giocato a lungo nella Plavis, oltre che nella formazione che partecipa al torneo estivo ononimo e in altre società della provincia. I funerali sono già stati fissati per domani alle 14.30 nel parco dell'oratorio di Santa Giustina. Le offerte saranno destinate all'asilo. Si tratta di un duro colpo per la comunità, sottolinea sindaco Ivan Minella, perché se ne va una persona sempre molto disponibile, anche in parrocchia e con gli amici. Appunto si legge nell'articolo e c'è anche la fotografia della persona scomparsa. Ci spostiamo in Comelico e andiamo a leggere una notizia che riprende una questione di cui si è parlato molto nei mesi scorsi. Si parla dei vincoli che hanno ricevuto un'ammazzata. Per Comelico e Oronzo c'è stata una vera e propria amazzata. La regione non può fermare lo Stato. La consulta respinge il ricorso veneto contro la blindatura del paesaggio imposta dal Ministero dei Beni Ambientali. E l'articolo è di Francesco Dalmas. Devi recintare un orto? Non puoi farlo se non sei autorizzato dalla sovrintendenza. Hai la canna a fumare e da rinnovare? Passa ancora per Venezia. Tanto più se ti devi fare la casa nuova. È quello che si legge all'inizio dell'articolo. Questi ed altri vincoli paesaggistici imposti un anno e mezzo fa ai comuni di Comelico e a quello di Oronzo dal Ministero dei Beni Culturali non verranno tolti. La regione ha fatto ricorso un anno fa per far valere la sua pianificazione, meno restrittiva, ma la Corte Costituzionale li ha di fatto confermati. Le regioni non possono pianificare lo sviluppo del proprio territorio con scelte di carattere urbanistico se non quando queste ultime siano rispettose dei vincoli posti dallo Stato per tutelare beni di valore paesaggistico. Inoltre lo Stato può adottare la dichiarazione di interesse paesaggistico di un bene anche quando la regione sia contraria. La tutela di questi beni risponde infatti a una logica incrementale che consente alle regioni di allargarne l'ambito ma non di ridurlo. La Corte ha riconosciuto che neppure la circostanza che il piano paesaggistico della regione sia in corso di approvazione può privare lo Stato del proprio potere ed indicare i beni da tutelare. Questo significa che, come avviene da un anno, ogni intervento che modifichi in qualche modo il paesaggio deve passare per la sopraintendenza. Ovviamente si sono scatenati i commenti a livello veneto e provinciale. Questo pronunciamento della consulta, dice l'assessore regionale Cristiano Corazzari, non fa altro che contrastare quel principio di autonomia che più volte abbiamo rivendicato anche in campo urbanistico e paesaggistico. Questo accadeva in particolare nel negoziato per l'autonomia avviato con lo Stato nel quale abbiamo chiesto la possibilità di assumere la gestione delle sovrintendenze vale a dire del settore paesaggistico. A corredo dell'articolo c'è la grande fotografia che mostra quella che fu la grande manifestazione a giugno del 2019 contro i vincoli e a favore del collegamento comelico Pusteria. E con questo articolo andiamo a terminare la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo, come ogni mattina, alle 8.30 sulle frequenze di Radio Piave e poco dopo anche in video sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Amico del Popolo. Intanto un buon venerdì a tutti, un buonissimo fine settimana, grazie come sempre per l'ascolto e ci rivediamo prestissimo. Arrivederci.